Alluvione dal governo arrivano 400 milioni. Il terremoto conferma l'inadeguatezza della questura. 200 posti di lavoro a rischio protestano i sindacati della sanità. Sabato colletta alimentare in 350 supermercati delle Marche. La magia delle candele torna ad avvolgere Candelara. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è martedì 22 novembre. Apriamo questa edizione con le emergenze che dallo scorso settembre stanno mettendo in grave difficoltà la nostra regione Marche. Aspettando l'esito delle richieste di stato di emergenza inoltrata ieri al governo per i danni del terremoto, si è concretizzata un'altra richiesta, quella per l'alluvione del 15 settembre con il governo Meloni che ha ufficialmente stanziato 400 milioni di euro. Vediamo il servizio. A poco più di due mesi dal disastro alluvionale che si è scagliato sulle province di Pesero Urbino e Ancona arriva un aiuto concreto dal governo. 400 milioni di euro. E questa la cifra che ieri sera ha stanziato il governo Meloni in seguito alla richiesta dello stato di emergenza inoltrato diverse settimane fa. 200 milioni sono stati stanziati con decreto, altri 200 con lecce di bilancio. Soddisfazione da parte del governo regionale che trova una corposa iniezione di fondi rispetto a quella che è comunque una stima di un miliardo di euro per somme urgenze e ripristino di infrastrutture nelle zone alluvionate. Sicuramente per l'alluvione i danni sono sotto gli occhi di tutti. Abbiamo fatto una richiesta al governo perché questa non sia considerata una semplice alluvione. È piuttosto un'onda anomala che le copiose piogge che cadono nel nostro territorio in sei mesi sono accadute invece in due ore di tempo. Il che ha provocato un'onda in alcuni casi alta alcuni metri che ha travolto tutto ciò che ha incontrato sulla sua strada. Questo nella Valle del Metauro, nella Valle del Cesano, del Misa e del Nevola. Il provvedimento è stato accolto con grande favore dal sitaco di Cantiano Alessandro Piccini che in tempi recenti aveva lamentato la lentezza dei ristori che zavorrano la ripartenza di un tessuto produttivo messo in ginocchio. È un provvedimento che restituisce fiducia a Cantiano dopo una settimana che ha registrato confortanti segni di speranza. Questo weekend è stata infatti riaperta la storica panetteria del centro I Moretti dopo una raccolta fondi che ha convogliato la solidarietà di panificatori da tutta Italia. Ieri invece è stata riaperta la filiale cittadina della BPR Banca imprimendo un ulteriore segnale di ripartenza. Dall'alluvione di settembre passiamo al maltempo che sta caratterizzando questi giorni. La protezione civile ha prolungato fino alle 14 di domani l'allerta gialla per rischio idrogeologico nella regione Marche. Risultano attualmente contenuti disagi nella provincia di Pesaro Urbino più problematici nella provincia di Ancona dove i vigili del fuoco sono intervenuti per una trentina di casi di rami d'albero spezzati e caduti sul manto stradale. A Senigallia oggi le scuole sono rimaste precauzionalmente chiuse. Ieri sera vi abbiamo mostrato le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco alla questura di Pesaro in seguito alla caduta di pezzi di cornicione che hanno portato a transennare parte di via Giordano Bruno e via del Fallo. Sul tema è intervenuto oggi Pierpaolo Frega del sindacato di polizia SILP CGL. Ribadendo la non più sopportabile inadeguatezza del Palazzo della Questura e rinnovando i dubbi anche sulla prossima destinazione negli spazi della caserma del 28esimo reggimento Pavia. Destinazione sulla quale il sindacato si dice ancora in attesa di chiarezza sulle tempistiche dei lavori e sulla metratura degli spazi che continuano ad apparire come insufficienti. Dal sindacato della polizia passiamo ai sindacati della sanità che oggi hanno allestito un presidio di protesta davanti all'ospedale San Salvatore di Pesaro per chiedere tutele a 200 lavoratori che potrebbero non vedersi rinnovato il contratto dal prossimo 31 dicembre. Parte questa mattina dall'ospedale di Pesaro il primo di altri presidi che si terranno anche a Fano e Urbino. Si radunano qua i sindacati degli operatori della sanità territoriale. Operatori della sanità a rischio, circa 200 posti di lavoro al 31 dicembre potrebbero non essere più garantiti. Questo alle porte della nuova riforma sanitaria che cambierà anche le aziende sanitarie dal gennaio 2023. Sindacati riuniti con forza oggi a rivendicare i propri diritti, a chiedere le proroghe dei contratti, a chiedere la stabilizzazione del precariato. Noi siamo molto preoccupati perché oltre a perdere posti di lavoro il rischio di accorpamenti, di servizi, riduzione delle prestazioni sanitarie è molto alto. Quindi noi lo chiediamo con forza. I contratti di lavoro bisogna che vengano rinnovati. Parliamo di professionisti che sono stati formati in questa azienda e che hanno lavorato duramente sul Covid. È una questione di dignità personale. I contratti devono essere rinnovati. Il primo di gennaio ci sarà una nuova azienda sanitaria in questa provincia. Noi non possiamo permetterci di perdere personale perché perdere personale vuol dire perdere i servizi. Noi abbiamo cercato in tutti i modi un confronto con le istituzioni per evidenziare le criticità che si andranno a verificare ma ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta a nessun confronto con le istituzioni. Solo il prefetto quando ci ha ricevuti per quello che è in suo potere si è preso carico delle nostre istanze. Qui stiamo mettendo a rischio non solo i lavoratori, i posti di lavoro ma tutta la sanità provinciale. Oggi è la prima giornata del settino che presidiamo su Pesaro ma proseguirà domani il 28 su Urbino e se ci sarà bisogno andremo ad inoltranza anche nel mese di dicembre. Quello che richiediamo è per i cittadini, per i lavoratori perché se i lavoratori non saranno presenti entrano a casa innanzitutto ci saranno 200 famiglie che resteranno senza posti di lavoro. Oltretutto la cittadinanza avrà una riduzione delle prestazioni sanitarie. Quindi fortemente chiediamo che ci siano questi rinnovi dei contratti. Tra l'altro abbiamo anche verificato che il tetto di spesa per fare questa assunzione nel 2023 ci sono. Quindi chiediamo sia alle aziende ma alla regione di dare la deroga, la proroga per i contratti a tempo determinato. Ed ora cambiamo argomento. La polizia di Fano assieme alla squadra mobile di Pesaro e agli uomini del commissariato di Cerignola hanno arrestato quattro pugliesi tra i 25 e 45 anni accusati di due furti d'auto proprio nella città di Fano. Si tratterebbe di una banda composta anche da un quinto elemento già agli arresti domiciliari dalla scorsa primavera per lo stesso tipo di reati. Secondo gli inquirenti si tratterebbe di una banda coinvolta in un fiorente mercato nero di auto rubate che gravitava nella città di Foggia ramificandosi con furti in tutta Italia. Oggi la giunta del comune di Pesaro ha approvato la variazione del bilancio da 3 milioni e 150 mila euro che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale del 28 novembre e che punta a destinare risorse nei settori chiave della città come servizi educativi, sociali e cultura. Ma c'è spazio anche per il caro energia. L'assessore a rigore Andrea Nobili ha infatti sottolineato i 616 mila euro a copertura degli aumenti del servizio di illuminazione pubblica che sono stati stanziati grazie a un virtuoso tesoretto di avanzi di bilancio costituiti negli ultimi anni. A pochi giorni dal Black Friday del 25 novembre la Regione Marche ha stabilito oggi le date dei saldi invernali vendite promozionali che partiranno ufficialmente il 5 gennaio per poi chiudersi il 1 marzo 2023. Sabato 26 novembre in 350 supermercati della Regione Marche si terrà la 26esima edizione della giornata della colletta alimentare. Chi destinerà parte della sua spesa alla colletta potrà compiere un piccolo gesto dai grandissimi benefici. Facciamo un gesto concreto insieme. E' questo lo slogan della 26esima giornata della colletta alimentare che si terrà sabato 26 di novembre. Oggi ci troviamo nel magazzino di via fermo del Banco Alimentare di Pesaro. Banco Alimentare che ha presentato questo appuntamento che come ogni anno si tiene nell'ultimo sabato di novembre un appuntamento in cui i cittadini possono recarsi in uno dei 350 supermercati della Regione Marche nei quali possono acquistare dei cibi che verranno poi consegnati ai tantissimi volontari presenti all'esterno delle strutture dallo scatolame ai pacchi di pasta agli alimenti per l'infanzia all'olio. Tante possibilità con un piccolo gesto di fare tanto per le migliaia di enti caritatevoli che avranno, che beneficeranno di questi doni. Una giornata della colletta alimentare che cresce di ogni anno come ci spiega Angela Tringali della Fondazione Banco Alimentare. Anche quest'anno abbiamo un parterre di più di 4.000 volontari in tutte le marche. Questo è sempre frutto di immense collaborazioni, alcune reiterate negli anni, anche perché quest'anno è la 26esima edizione della colletta alimentare. 350 supermercati nel territorio marchigiano e adesso poi vado a qualche titolo invece per la provincia di Pesaro. Sono 150 supermercati di questo territorio, di tutta la provincia di Pesaro che saranno coinvolti e anche qui tantissimi volontari. E così vi racconto magari anche qualche collaborazione in essere, anche cose nuove. Per esempio parto dai Lions Club. I Lions da sempre collaborano con la colletta alimentare, ma quest'anno c'è stata una scelta proprio a monte. Tutta l'organizzazione Lions in Italia ha scelto di aderire alla colletta alimentare. Questo è stato importantissimo perché anche presenze più piccole di tutto il territorio marchigiano hanno dato la disponibilità per far la colletta. Quindi quest'anno in più parti del territorio marchigiano ci sarà proprio questa collaborazione con i Lions. Un'altra cosa molto interessante di quest'anno è anche la collaborazione con l'Associazione Ucraini. Questa è stata bella per noi perché è stato proprio un segnale, proprio una legge quasi di vita che quando uno riceve un dono e un'accoglienza la prima cosa che gli viene da fare anche dopo è restituirla. Per cui loro per primi che sono nati proprio come ODV per aiutare i bisogni che ci sono, si sono dati da fare, hanno creato due gruppi che ci daranno una mano durante la colletta alimentare. Poi altre particolarità di quest'anno, la presenza della squadra Well che verrà a fare un momento e un turno di volontariato allo spazio Conad e ancora il rugby che da sempre è al fianco del Banco Alimentare che andrà a fare un momento di turno al Conad 900. E ancora c'è da dire che quest'anno si sono stati sorpresi e onorati dall'interesse del Vescovo che ci ha chiesto di iniziare il turno, un turno in un supermercato, anche questo il Conad 900 alle 8 e mezza di stare un'oretta con i volontari e incontrare la gente. Poi vedremo anche la presenza anche qui da tantissimi anni dell'esercito. L'esercito ci aiuta perché voi sapete che raccogliendo tante derrate alimentari poi alla fine bisogna portarle tutte nel nostro magazzino. L'esercito ci mette a disposizione uomini e mezzi per poter andare a recuperare il cibo nell'entroterra pesarese e riportarlo appunto al magazzino. Quindi è proprio uno sforzo comune, tantissime aziende ci aiutano mettendo a disposizione i mezzi e quindi veramente è un'operazione corale. Tavuglia, terra di piloti e di motori ma anche di percorsi dedicati al cicloturismo. Rientra in questo senso il nuovo progetto Tour dei Campioni che la sindaca Francesca Paolucci ha svelato in anteprima ai microfoni del nostro Paolo Pagnini in occasione della serata di grande ciclismo organizzata da Fisioradi Medical Center nell'ultimo fine settimana. Stiamo per portare l'attenzione di tutti, un progetto che abbiamo portato avanti noi come comune di Tavuglia insieme ad altri 7-8 comuni che sono a cavallo di due regioni. Per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme dei comuni che non hanno paura dei confini amministrativi ma si sono messi insieme per questo percorso che è stato definito Tour dei Campioni che collega Tavuglia, quindi Valentino Rossi, con Coriano, quindi Simoncelli passando per Aiden, purtroppo nel luogo in cui ha avuto l'incidente per il Misano dove c'è la pista di moto, di motociclismo, di automobilismo del nostro territorio e questo progetto che abbiamo finanziato noi, noi comuni, è arrivato a definizione. Il video di presentazione lo hanno girato dei nostri concittadini da Giacomo Rossi del CA Virginia a Mauro Sanchini, famoso cronista della MotoGP che abita vicino a noi nel comune di Monte Calvo e quindi questo Tour dei Campioni sarà presto ufficialmente reso noto a tutti. È un percorso per delle biciclette anche di diverse categorie da quello che so io sono più affezionata a un mondo di motori piuttosto che della fatica della bicicletta però è molto bello ed è stato veramente importante mettere insieme questi piccoli comuni di due regioni. Un'altra cosa che posso raccontarti, che ancora sono stupita, abbasita perché è difficile per un sindaco ricevere una telefonata in cui ti dicono sindaco so che lei sta per asfaltare una strada, può per cortesia non asfaltarla? Quindi io mi sono seduta e ho detto scusi, metto in viva voce, ripeta per favore perché di solito mi chiedono di asfaltare e mi hanno spiegato bene invece che la strada di cui si parla nel nostro comune è una strada bianca e ha un grande valore turistico per tutti coloro che sono appassionati sia di biciclette, in particolare gravel mi dicono, sia di moto quindi cercheremo di sistemarla però lasciandola bianca. Ed ora continuiamo ad aggiornarvi sugli appuntamenti più tipicamente natalizi del nostro territorio. Da questo sabato infatti torna la magica atmosfera di Candele a Candelara. La luce calda e rassicurante delle candele illumineranno le vie del Borgo Storico di Candelara per la diciannovesima edizione di una delle feste più popolari del Natale del territorio pesarese. Otto giorni, i weekend del 26 e 27 novembre, del 3 e del 4 dicembre e dall'8 all'11 dello stesso mese vedranno il centro di Candelara illuminarsi di mercatini, spettacoli e animazioni tra cui la preparazione di candele con cera d'api come avveniva nel Medioevo. Ma anche sculture in ferro battuto, la via del presepe, la bottega degli Elfi, tutte attrazioni armonizzate dal suono della banda musicale formata da 35 e Babbo Natale. Un'atmosfera unica grazie anche ai due spegnimenti programmati dell'illuminazione elettrica che per 30 minuti verrà sostituita dal chiarore di centinaia di candele. Noi abbiamo quella mezz'ora fantastica per cui arrivano da tutta Italia proprio per questo momento magico perché effettivamente è già uno spettacolo solo questo, il fatto di tirar via la luce elettrica e di accendere migliaia di candele è quello che fa in qualche modo creare quella magica atmosfera pre-natalizia poi perché tra l'altro siamo nel periodo dell'Avvento ma già a Candelara si può respirare questa atmosfera. Ad accogliere persone, turisti e curiosi ci sarà l'ingresso alla Torre dell'Avvento formata da quattro candele giganti che rappresentano ognuna un tema diverso legato alle domeniche che precedono il Natale e ad ogni weekend ne verrà accesa una. Le giornate migliori soprattutto per i dintorni e pesaresi in particolare saranno sicuramente le giornate del sabato e facciamo anche un ponte particolare 9 e 10 dove appunto ecco consigliamo ai pesaresi di utilizzare anche le nostre navette perché anche questo è un servizio splendido perché riusciamo a garantire gratuitamente tra l'altro ogni 30 minuti il passaggio di questa navette dalle 10 alle 20 della sera. E Candelia Candelara sarà uno dei 100 eventi della rete del Natale che non ti aspetti organizzata dall'Unione delle Proloco Provinciali. Natale che non ti aspetti che oggi è stato ufficialmente presentato a Roma nella prestigiosa cornice istituzionale di Montecitorio. Il 26 novembre riparte il Natale che non ti aspetti con 7 settimane di eventi su 2500 km di territorio con 300.000 visitatori. Tutto questo grazie a 2000 volontari di 22 Proloco coinvolte. Un Natale da più di 120 nelle città e nei borghi storici della provincia di Pesaro Urbino che hanno stretto anche una proficua intesa con i mercatini natalizi di Bolzano e che oggi il Presidente dell'Unione Proloco Damiano Bartocetti ha potuto presentare a Roma alla Camera dei Deputati alla presenza del Ministro del Turismo Daniela Santanchè. Siamo qui nella Camera dei Deputati, sono veramente fiero e contento. Oggi abbiamo avuto la presenza del Ministro, quindi ancora motivo d'orgoglio per noi. Ringrazio l'Onorevole Antonio Baldelli per aver organizzato il tutto e purtroppo mi dispiace che non è qui presente insieme a noi. Ringrazio tutti i suoi collaboratori, ringrazio i collaboratori del Ministro, ringrazio tutta la sicurezza del Parlamento a partire dal generale Donnarumma, tutte le personalità, tutto il personale dentro che ci ha accolto in maniera straordinaria. Veramente una giornata emozionante. Per la prima volta siamo riusciti a fare qualcosa che negli anni non siamo mai riusciti a fare. Avere finalmente un cappello del Ministro che proprio ci ha riconosciuto, ha riconosciuto alle Proloco, al nostro territorio, i volontari che saluto con estremo affetto e amore per la passione. Oggi siamo qui a rappresentare degli eventi grazie alle Proloco di Pesaro Urbino. Questa manifestazione Natale che non ti aspetta e mette insieme più di 120, quindi rivitalizza tutte e magari quelle parti del territorio che, come dice lei, si stanno spopolando. Io credo che di queste iniziative ne dovremmo organizzare di più, devono avere il supporto del Ministero, del Ministro del Turismo, perché l'Italia è questa. È fatta da tantissime piccole realtà che bisogna aiutare. È molto bene anche l'iniziativa di fare degli accordi. Bolzano è forse il mercatino del Natale più riconosciuto, più famoso dagli italiani, e quindi è molto bene fare questo mix e questo joint venture per dare ancora un'offerta migliore. Grazie. E chiaramente continuate a guardare Rossini TV, il nostro telegiornale, perché vi daremo costantemente aggiornamento sugli appuntamenti del Natale che si terranno sulla nostra provincia di Pesaro e Urbino. Invece questa sera alle 21.20 nella nostra prima serata vi mostriamo l'inaugurazione del nuovo centro estetico naturalmente bella all'interno dell'azienda La Saponaria. E poi domani torna la nostra rassegna stampa alle 7.20 in replica alle 8.20. E poi domani che è mercoledì, attenzione, una seconda puntata di Ci inviti a cena, questo nuovo format targato Rossini TV, in cui diamo la possibilità a voi telespettatori di farci conoscere le ricette della vostra famiglia. E quindi domani Paolo e Nicoletta li vedrete a casa di Cristina e Antonio. E vi ricordiamo che giovedì torna una nuova puntata di Insieme a Canestro. Attenzione, saremo in diretta alle 21.20 con Marco Cadeddu, insieme a Giovanni Zidda, iSocial e gli ospiti della puntata saranno Umberto Stazzonelli, che è la guardia della VL, e Giovanni Illuminati, che è responsabile del settore giovanile della VL. Ho detto davvero tutto, carissimi amici, grazie per averci seguito anche questa sera. Adesso il meteo, noi con l'informazione ci ritroviamo domani alle 7.20 con la rassegna stampa.